Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi come avete visto partiamo dal mio desktop Per farvi vedere alcune cose, alcuni cambiamenti che sono stati apportati sul mio canale E che ci direi che sapeste perché ho visto tante persone che equivocano tutti i vari link che ci sono sotto i miei video Alcuni contattano Ciccio Pasticcio per chiedergli di me, convinti che sono io Alcuni contattano altra gente convinti che sono io Quindi ragazzi vi volevo fare un po' di chiarezza Allora come sapete tutti sotto i miei video ci sono dei contatti Quindi andiamo a vedere Allora in primis ragazzi troviamo tutti i contatti dei miei sponsor In caso vi servisse qualcosa in campo elettronico Non so, volete comprare un telefono, volete comprare una play, volete comprare un gioco Chiamate PlayGiochi Editor e mandate una mail E avrete tutto quello che vi serve, le vostre risposte Comunque ci sono le pagine Facebook e tutto il resto Poi come avete visto ragazzi c'è Hai bisogno di un account moddato E lì ragazzi non sono io questo qui che vende l'account moddati E' uno ragazzo del mio staff ragazzi Quindi se contattate lui, non contattate lui convinti che sono io Ma se lui si chiama Ciccio Pasticcio Non può essere Maxi Milk Poi più sotto troverete ragazzi i miei contatti E' lì dove dovete andare a cercare Come vedete abbiamo il mio contatto PSN La mia pagina Facebook Il mio profilo Facebook Il mio Twitter Anche se alcuni social non li vado ad usare molto Tipo Twitter, tipo Instagram Si ho qualche follower Però non li sto usando Perché comunque non li amo molto L'ho fatto per voi L'ho fatto per magari vi fa piacere seguirmi da qualche parte Però le uniche pagine dove condivido Diciamo regolarmente sono Facebook, Twitter E Google Plus Basta ragazzi Allora queste sono le pagine dove condivido più regolarmente Per chi comunque vuole trovare direttamente i miei contatti Vada direttamente in contatti Aspettate un attimo che metto il mio canale in italiano Perché ce l'ho in inglese il canale YouTube E vi faccio vedere dove dovete andare Per tutti quanti i miei contatti ragazzi E' abbastanza semplice Andate qui E come vi ho già detto Trovate tutti i miei contatti Come vedete c'è La pagina di YouTube Gaming Ci sono tutte le varie pagine Ma quello che è più importante ragazzi Secondo me è di maggiore importanza Sono i contatti Telegram Come vedete ragazzi Io ho anche un canale secondario Che è dedicato alla crew LadyCree di Roma Che in questo momento è molto inattivo Perché giustamente non stiamo facendo sfide crew Quindi non ci sono pubblicazioni su sfide crew Allora per quanto riguarda Il mio canale primario ragazzi Io vi raccomando in primis Di iscrivervi al canale Prima cosa E seconda cosa Di attivare la campanellina Anche se io comunque Mando Le notifiche Sui miei vari canali Telegram Perché Comunque Ho il canale Telegram E ho il gruppo Telegram Che è aperto da poco ragazzi Quindi andiamo Io vado a rimpostare Perché a me Quando ho aperto YouTube Diciamo il mio canale Inizialmente l'ho aperto in inglese Quindi non mi lascia impostare alcune cose Comunque sia ragazzi Vi vado a far vedere Come dicevo Ci sono svariati canali Telegram Allora In primis Sapete tutti come attivare la campanellina Io adesso qui sono andato sul canale di TNT Record Che è uno dei miei canali amici Dove prendo tutta la musica Di Eminem Tutti quanti i remix di Eminem Che mi concede gentilmente Senza crearmi problemi sul copyright Da accordo diciamo Non andate perché comunque Non è che vi dà la musica così Questo ve lo specifico Io ho un accordo con TNT Record Quindi automaticamente Posso utilizzare i suoi brani musicali Come vi dicevo ragazzi Ci sono svariati gruppi Telegram Allora Due Sono i miei Quindi c'è il mio canale Telegram E il mio gruppo Telegram E poi c'è il gruppo di GTA Online Che sarebbe questo qui ragazzi Questo gruppo è un gruppo da me sponsorizzato Diciamo ci stiamo sponsorizzando a vicenda Con questo gruppo Quindi iscrivetevi a questo gruppo E ovviamente iscrivetevi anche ai miei vari gruppi Se cliccate su tutti i quali collegamenti Vi riporteranno direttamente su tutti quanti i gruppi Telegram ragazzi Quindi mi raccomando Non perdete l'occasione di iscrivervi al mio nuovo gruppo Telegram Leggete bene le regole del gruppo Telegram Cercate di non floddare sulle chat Per non avere problemi Detto questo Vi aspetto numerosi Aiutatemi a crescere Un saluto a tutti Al prossimo video Ma che ne sono le due mia Wow